Facciamo tre combinazioni dove uso i mani e i comitanti. Quando fanno i comitanti fanno solo i comitanti. Non devi fare solo i comitanti, devi sapere di mischiare tra loro. Una con la comitata ferma, una spostando verso la sinistra e una spostando verso la destra. Facciamo tre combinazioni. La prima è sinistra, destra, piangso. Faccio sinistra, destra, piangso. Un comitante, verso lato. Un giro, abbi. Da qua. Mettete più di 10 per aver spiegato la mia visita. E avviata quando stiamo con dentro. Man, tra, man. Vado a pulire con questa, man. Facciamo questa. E in giro, la mano, man. Ok? Usiamo un posto di gomito per cambiare. Ok? Non puoi fare circolare. Oh, bam. Però, mentre la mano va, bam. Bam. Scendo. Bam. Ok? Facciamo. Adesso lo facciamo sulle mani. Non va bene quando si la faccia si fa error. Uno, due, tre. Gomito verso l'alto. Gomito circolare. Gomito. Tiro la mano. Scendo. Up. Bam, bam, bam. 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 Tiro la pistola. Gomito. 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 Sinistro. Desse. Gancho. Comitante verso lato. Comitante circolare. Prendo le mano. Posta da pistola. Bam. Ok? Questa è la prima. La seconda. Uno. Lo spostamento. Verso la destra sua. Devo fare solo sinistro. E piano. Ok? Sinistro. Pianco. Vedi? Metti i piedi adesso. Guarda. Allora faccio sinistro. Pianco vedi. Mi aperto il pezzo. Allora che devo fare? Usare una punta. Fala. Ok? Fala. A me piace. Bam. Va. Lo uso quasi sempre. Ok? Sinistro. Aprete la mano. Sinistro. Pianco. Vomitante. 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 Unito. Vomitante. ة . Vomitante. ok? e la terza uso la comitata girata questo spostamento in tena desi si usa tanto per tocarsi girare cambia solo la posizione, una volta qua, una volta qua ok? allora, il pezzo sinistro montando il testo montatele, ok? quando incomba ti metti, quando fanno sinistro le faccio montante, le pressi qui, ok? la mano se trova, il parto girare, bam, pressi qui girare nina, questo spostamento, più bam, ok? se ne faccio più oltre allora, adesso che facciamo su mano, bam montante, montante e tolgo giop, giop, giop giop, giop, giop montante, prendo le mani tolto giop, giop, giop ok? ora facciamo già benissimo la prima, la prima, fermo qua, ok? se ne faccio più oltre giop, detero se ne faccio più oltre giop, gioie battute, ok? invecego su exterior Fenestrati e Rotten, goc, giop Un momentaggio circolare, in giro, giro, destra o mancio, ok? Finistro, bianco, un momentaggio circolare, a destra, finistro, un danti up, bam, bam. Ok? Lo fa uno, tutti i ritri, poi lo fa l'altro, tutti i ritri, non fate una, una, uno, fai tutti i ritri, tutti i ritri, ok? Grazie.